Salve a tutti da Genocid e dal Gundam Italian Club. In questo video vi mostreremo l'unboxing di questo mezzo di supporto tratto da Advance of Z, la site story di Gundam dedicata quasi esclusivamente ai Titans. Allora, il mezzo si chiama, il nome per esteso è un Emergency Escape Pod Primrose, che Primrose vuol dire Primora, ed è un mezzo di supporto sviluppato appositamente per l'RX-121-2 Gundam TR-1-Azel2, che sarebbe questo bellissimo mezzo. Ora, nel mio caso però, invece della testa da Gundam, io ho messo quella da GMQL, ma il resto della struttura è quella della Z2. a parte i tacchetti qua, che sono del Advance Hazel. Come ho detto più volte, la cosa bella di questa serie è che sono tutti i mezzi sviluppati a partire dal GMQL e sono stati pensati appositamente per essere compatibili l'uno con l'altro. proprio dietro alle scatole ci sono le istruzioni per come incrociare i vari kit, esattamente dato poi come succede nella storia, che prendono i vari pezzi dalle varie unità, perché insomma non so. Advance Z parla del Titans Test Team, un reparto chiamato volo sperimentale dei Titans, che doveva usare nuovi mezzi sperimentali in combattimento per vedere i risultati e suggerire eventuali modifiche agli sviluppatori. e per inciso, i Titans Test Team di combattimenti ne hanno fatti parecchi. Allora, nella storia, questo mezzo viene sviluppato in seguito al danneggiamento di uno degli Hazel di questo Titans Test Team, per, appunto, inserire un Core Pod all'interno del mezzo ed essere così in grado di assicurare la sopravvivenza dei piloti. Ora, prima di andare a vedere, anzi, andiamo prima di tutto a vedere come appare all'interno del fumetto e del romanzo da cui è tratto. Come potete vedere, l'illustrazione principale è esattamente la stessa di come appare nel giornaletto. Che giornaletto... Questo qua è uno special di Daeki Hobby Magazine, tant'è che il kit, in questo caso, è un Fukuru Grade realizzato apposta per gli special della Daeki Hobby Magazine e per addirittura alcuni eventi speciali. Tra l'altro qua non c'entra niente, ma ho finalmente ritrovato il sottobicchiere della Gundam Base, con Banager Link che si otteneva soltanto prendendo i drink dell'Unicorn. Quindi, buon per me. Comunque, tornando alla nostra storia, potete vedere questo è il mezzo in tutto il sospendore. Qua abbiamo alcuni schizzi dell'Azel 2 con le componentistiche di questo mezzo attaccate. Come potete vedere, queste due paratie andranno poi a diventare dei, diciamo, bracci di sostegno per questi scudi cannone. Cosa adatto tipica di Advance Z, degli scudi con innestati sopra dei grossi cannoni a raggi, grossi Bing Life. Snipper Bing Life. Qua abbiamo alcuni dettagli di come il Primorz da, diciamo, torso cockpit del Mobile Suites si trasforma poi in Core Fighter, diciamo. Qui abbiamo alcuni dettagli della spalla sostitutiva dove si potrà innestare con mio grande piacere il Long Blade Beam Rife del mezzo di cui possiamo vedere alcune schematiche qua. da notare come in questo caso invece la testa non sia quella dell'Azel normale ma quella dell'Advanced Hazel con il visore a lunga gittata che per inciso nasconde un monocolo al suo interno. Qua possiamo vedere in tutto il sospendore un Hazel con il backpack dell'Azel 2 e il visore dell'Advanced Hazel e ovviamente le componentistiche del Primorz. vediamo appunto lo scudo il torso che sebbene da qui sembra simile in realtà appunto è la... come possiamo vedere qua è questa parte della cabina del Primorz e poi abbiamo dell'Altrant che è le braccia addizionali dell'Advanced Hazel. Tutte queste modifiche portano a avere questo mezzo l'Azel Ousla o credo che così si pronunci se comunque sono nomi tratti dalla collina dei conigli qua abbiamo altri dettagli di come funzionano quelle specie di braccetti che vanno messi sul sul torso da notare anche un omino per suggerirne la scala e poi qua abbiamo altri schematiche che ci mostrano bene come il Primorz vada a sostituire completamente il torso dell'Advanced Hazel e da notare poi come alcune parti possono essere compatibili con Isaac e Marasai vediamo se ci sono altre immagini ah sì qua abbiamo tutti i vari ecco la cosa bella appunto che è andato a sostituire il torso dell'Advanced dell'Azel il Primorz è compatibile con i vari Backpack dell'Azel quindi abbiamo il Backpack dell'Azel 2 abbiamo il Backpack dell'Advanced Hazel con i due scudi ma abbiamo anche e non so se lo noterete ma questa struttura qua blu scura che si attacca alla parte basculante del Backpack dell'Azel nient'altro che Luduru Parts di cui abbiamo già mostrato il video con le due gondole motori del no gondole motori gondole sono due gondole con ci posso qua questa fa in cazzo e qua questa contiene un altro tipo di equipaggiamento del l'Ario il Gaplant di Advanced Oz questa combinazione in particolare tra Luduru e queste due gondole va a formare quello che viene chiamato Luduru 2 qua invece in questa schematica piccola abbiamo la fusione tra appunto il Primors e le parti del dell'uduro normale con il portascudo diciamo il sensore con gli agganci per gli scudi e gli attacchi di dietro e le due gondole quella porta con la chela e l'altra che è la gondola motore qua abbiamo invece altre schematics per come insomma l'uduro poi trasformato in caccia possa comunque montare tutte le varie parti opzionali che strato saranno in questo kit e poi qua grazie abbiamo delle belle schematics proprio dedicate all'uduro come torso dell'azel mostri bene che sta uscendo un po' di sole e via e poi tra l'altro qua abbiamo un disegno di dell'azel diciamo con i colori da battaglia con il torso dell'uduro scusami bam il torso del primorz le spalle del primorz la testa dell'avance azel il i braccetti dell'avance azel le gambe tipiche degli azel con i tacchi dell'avance azel si dice che questo sia poi quello che è stato il prototipo del mitico barzam di advance azel quindi niente male no così passate una luce quindi questa rivista si mostra sempre interessante ora andiamo a vedere invece la scatola nella scatola come potete vedere c'è il disegno in bianco e nero dell'oswald oswald credo che sia in italiano sul lato non c'è granché ci sono giusto un aggiornato focus vari mezzi advance azel che erano usciti nel frattempo di nuovo e poi vari mezzi di tata che erano usciti nel frattempo e qua vari mezzi di advance azel con cui tra l'altro è incompatibile qua un po' piccolo ma si vede bene l'azel 2 l'ario l'advance azel con il suo backpack con doppio scudo braccia aggiuntive i tacchetti e qua l'azel custom purtroppo l'autofocus non c'è amico a quanto pare questa volta e qua abbiamo uno dei loghi del titans dance team che rappresenta un coniglio sinizzato visto che tutti i vari mezzi dei titans del titans dance team prendono spunto da mezzi della colina dei conigli ora abbiamo cartoncino protettivo e poi la busta ah dimenticavo al contrario del precedente kit questo ha le istruzioni sul retro quindi non toccherà impazzire per recuperarle su internet ci sono le istruzioni di montaggio e poi le istruzioni per trasformarlo e far sì che le parti del primorso vadano a completare il torso dell'azel e bonus avremo anche le corazzature aggiuntive che si vedono nei primi volumi di Advance on Z che sono riprese fondamentalmente da quello dell'Alex e del GM Cannon 2 dicendo che dovremmo avere invece in quest'altro numero se le trovo purtroppo non me lo sono preparato perché me lo sono ricordato adesso vabbè purtroppo non le trovo quando avrò in modo ve le farò vedere allora andiamo a vedere i componenti questi primo sprue un po' più piccolo che vediamo bene qua sono i vari laterali che andranno messi a seconda delle configurazioni questi due sono i laterali della corazzatura aggiuntiva dell'Aletz in stile Alex per l'Azer che vediamo meglio qua il torso e i fiancali insomma per il gonnellino e in questo caso mi sembra giusto anche far vedere la similarità non tanto del da parte del torso con il GM2 ma bensì del gonnellino tra l'altro ecco un po' questo pezzo da mezzo ecco un po' meglio sono molto molto simili cambia un po' l'inclinazione tra l'altro invece per questo GM2 pitturato con lo stile dei mezzi avanzo z e loghi avanzo z devo ringraziare il mio carissimo amico Garuta Reis che non solo me l'ha regalato ma che in realtà me l'ha fatto l'ha fatto lui su le mie indicazioni per fare appunto un progetto un esperimento e il primo romix in cui ci siamo no il secondo romix a cui ci siamo visti me l'ha portato per regalarmi perché insomma io ho rotto un paio maroni perché volevo vederlo da vivo io l'ho rotto così tanto che me l'ha regalato per farmi sta buono grazie mille Garuta sei un amico grazie un pochino più avanti che merita anche lui il suo scrittale poi andiamo a vedere gli sprue abbiamo qua le due parti del questo scudo beam rife o mega parti cercando adesso non so esattamente quale delle 10.000 varianti è di questi tipi di jdarm qua abbiamo quella placca d'armatura addizionale barra braccio porta scudo che abbiamo visto prima qua abbiamo le varie parti del diciamo di quelle che saranno i fianchi del del torso o a seconda di come imposteremo le alette del escape pod qua abbiamo proprio la parte del torso dove si andrà a innescare il il backpack del laser questo qua che dovrebbe essere poi il cockpit o il facente funzioni di tale anzi questo sarà la fine dove si andrà a posizionare il pilota questo sarà l'aggiunzione qua molto interessante abbiamo un il collo del mobile suite dove che non mi sembra ci sia ah si e qua abbiamo le spalle o quantomeno la parte di una di esse e la cosa il fatto che ce ne sia soltanto una mi preoccupa un po' la scatola dentro è vuota quindi sarà l'unico componente che avremo per questo video dovrebbe essere tutto no però insomma c'è scritto 15 a 16 sono 15 a 16 sì purtroppo le mie paure sono confermate perché questi stanno insinuando il fatto che per fare un mezzo completo ti servono due kit di questo tipo quindi per questo video è tutto arrivederci grazie da Genocid e da Gundam Italian Club grazie